Questa caverna era un luogo di culto. Per raggiungere la Sala Sacra al monastero dovremo riparare quella barca. Non so come comincerò gli altri a puntare verso l'entroterra invece di salpare dall'isola, ma devo riuscirci. Per raggiungere la Sala Sacra al monastero. Per raggiungere la Sala Sacra al monastero. Usano questo posto come dispensa per il cibo. Per raggiungere la Sala Sacra al monastero. Grazie.